Ma è mai possibile un SUV da 160.000 euro e si va a piantare dopo due mesi? Ho robe di altro mondo! Pronto Samantha, io sono piantato col SUV, arrivo più tardi. Ascolta, siccome ho saputo che c'è un controllo della finanza, fa una cosa. Vai in archidio, c'è un faldone con su scritto fatture in nero, brucia tutto. Poi c'è un altro faldone con su scritto troie, brucia anche quello. E siccome sei pagata in nero, alla fine bruciati anche te. Io arrivo più tardi che prima devo passare a confessarmi. Boh, mi hanno detto che c'è una chiesa da queste parti, ma c'è solo una birreria là. Vado a chiedere a loro. Eccone un altro. Oh Gesù d'amore acceso, non ti sarai mica per caso offeso. Oh mio caro e buon Gesù, non ti devi offendere mai più. Almeno una volta avevano la scusa della messa in latino. Per questi qua l'italiano è arabo. Mio buon Gesù, mi rivolgo a te perché so che non hai niente da fare tutto il giorno. Magari poi tu riferissi alla mamma o al papà. Intanto ringrazia il babbo per tutti i doni che ci ha donato. Una bella moglie, dei bei figli sani, un bel lavoro. Per la macchina no, ti ringrazio. Ehi tu, coso? Ma chi è? Ma come chi è? Siamo in due, uno sei te, l'altro sono io. Oh Cristo! Esatto! Oh Gesù mio! Lo so come mi chiamo, smettila di fornirmi le mie generalità. No, scusami, ma non sono mica abituato a sentirti parlare. Il problema invece è che io sono abituato a sentirti parlare te, ma ti rendi conto delle cazzate che dici? No, io volevo solo ringraziarti perché tu ci proteggi la mia famiglia. Facciamo una botta di conti. Nel mondo ci sono sei miliardi di persone, di cui cinque miliardi di gente nella merda. Secondo te perché dovrei proteggerti proprio a te che hai una casa, un lavoro, una famiglia e una macchina? Perché io ti prego, no? Ma ragiona un attimo, ma tu pensi che siccome tu mi preghi, allora io ti mando una bella figa e dei figli sani? Ma in che mondo vivi? Ma allora secondo te uno in Africa che ha la moglie col colera e i sei figli morti di fame è perché non prega abbastanza? E forse lui prega il Dio sbagliato? Eh certo che hai avuto un gran culo a imbroccare il Dio giusto, ma ti faccio un'altra domanda. Perché uno prega? Beh io ti prego perché così dopo tu intercedi presso il padre tuo che sta lassù, nei cieli. E ti sei fatto un'idea precisa dell'aldilà, con gli stessi meccanismi stereotipati che ci sono nell'aldiquà. Veramente? Lo dici al figlio così lui lo chiede al padre, magari passi prima dalla Madonna che lei sa come prenderlo. Ho raccomandazioni, no? E poi magari ti fai fare una copia delle chiavi da San Pietro, suoni al citofono che il gatto sta male e se il gatto muore è colpa del citofono. Ah c'è il citofono? Insomma volete organizzare l'aldilà come l'aldiquà? Ci avete perfino rifilato i ministri di Dio, come se non avessimo già le balle piene dei ministri dei vostri governi. E cosa fanno questi vostri ministri di Dio? Benedicono le armi, siedono accanto ai generali, nei convegni, negli hotel a sette stelle? Lo sai che cos'è l'ordinariato militare? Cosa? Il vostro tanto amato santo subito Giovanni Paolo II nella Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae afferma che la Chiesa ha sempre voluto provvedere con lodevole sollecitudine e in modo proporzionato alle varie esigenze alla cura spirituale dei militari per le peculiari condizioni della loro vita. Si vede che se uno è in pace col proprio spirito spara meglio. Prende meglio la mira? Potete andare a messa quanto volete, ma quell'inferno che vi siete inventati con dovizia di particolari è riservato proprio a voi. Le vostre giaculatorie sono parole vuote. Il mondo militare con me è inconciliabile. Ah ho capito? Mi stai mettendo alla prova? Tu mi stai mettendo alla prova? Voi mi mettete alla prova? Mi avete rotto i coglioni? Che ci faccio inchiodato qua? Ero risorto io? Perché mi avete inchiodato? No, sono stati gli ebrei, al limite i romani, perché Ponzio Pilato... Ma che cazzo me ne frega di Ponzio Pilato? Non sto parlando di Giudea, Palestina, Cappadocia. Sto parlando di voi adesso qui, in questa chiesa a pessimo impatto ambientale, progettata negli anni 70 durante un droga party. Sto parlando di voi che odiate la gioia. Comunque ti inviterei a usare un linguaggio più consono a questo luogo sacro. Alla mia nascita tutti festeggiano tranne me, che sto in un posto al freddo e al gelo, circondato da un pessimo arredamento. Arrivano dei re che mi fanno dei regali che non servono a un cazzo, si inginocchiano, mi adorano e poi se ne vanno trovando normalissimo che io rimanga nella merda. Non ho ancora compiuto 15 giorni che già non mi caga più nessuno. Per un giorno di Pasqua all'anno ci sono 364 giorni di sfiga madornale, fatti di fustigazioni, di flagellazioni, di lebra e pestilenza. Con questa vostra attrazione per la bassa macelleria. Le vostre chiese sono peggio di un horror. Mettete bellamente in mostra gente tra fita di frecce, peggio di un porco spino. C'è una che porta un vassoio con sopra i suoi occhi, una che ti serve le tette come aperitivo. E poi stimmate piaghe e santini a cuore aperto. La vostra non è religione, è splatter. E non bastano le chiese. Mi appendete nei luoghi più agghiaccianti, nelle aule di scuola dove esponete la vostra ignoranza, nelle aule di tribunale dove sono costretto a sentire le cazzate dei vostri interminabili processi, che mi viene voglia di togliere il martello al giudice e di tempestarmi lo scroto di randellate. Mi sono rotto i coglioni. Se riesco a schiodarmi da sta croce vengo giù e faccio una mattanza a Dio caro. Comunque tu dovresti confessarti. Ma cos'è sta confessione? Ma cos'è sta mania che avete di farvi sempre i cazzi degli altri? Davvero pensate che per la vita eterna sia così importante con chi scopate? Ma fate quello che vi pare. E abbiate un po' di rispetto piuttosto. E smettetela di inventarvi tutte quelle torture che non ne posso più. Sono duemila anni che sto qua con queste mutande fuori moda, con mia madre che piange sempre. Qua è tutto un piagnisteo, tutta una tortura, tutta una flagellazione, un mortorio, un ossario. Vi siete inventati il purgatorio dopo mille anni e poi vi siete inventati il limbo. E adesso non c'è più neanche il limbo, le anime del limbo non sanno più se andare da una parte o dall'altra. Siete riusciti a fare gli esodati anche nell'aldilà. Ma che diamine, una botta di vita, un po' d'allegria. Che mortorio, fuori dalle ore di punta qua non passa mai nessuno. E toglimi sto cazzo di scritta in sovrimpressione. Mi piacerebbe anche sapere chi è che passa tutte le settimane a depilarmi le ascelle. Sono arabo, cazzo! Rivoglio i miei peli!